posso provarci io libro viola libro viola diego hai cattive intenzioni e infatti la trovai proprio di fronte a noi venite qui oh mio dio ragazzi oddio la cosa si fa seria ok proprio io libro viola libro viola questa serata andrà a finire bene o male non preoccuparti da noi non preoccuparsi allora dai è buono sono stai piangendo sì scusami anche il mio libro cioè sono vere le cose che sta dicendo perché rappresentano il presente il futuro il passato tutto quanto libro viola libro viola è vero questo gioco cioè non è che è tutto una falsa è vero oh mio dio oh mio dio no raga mi sto spaventando raga oddio saluti io ho paura no ragazzi sul serio ok forse è meglio chiudere no siamo subito ok libro viola libro viola possiamo chiudere tutti questo gioco e tu come fai a scavalcare chiesi a diego oh mio dio ragazzi no sul serio non possiamo prova tu prova tu vuole che non lasciamo il gioco no provaci 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 libro viola libro viola possiamo uscire tutti da questo gioco file file di scaffali alti fino al soffitto no no tomaso prova anche tu libro viola libro viola si può uscire tutti da questo gioco evita di evitare di riparcare non dobbiamo richiedere la stessa cosa è vero non dobbiamo chiederglielo più libro viola libro viola vorrei dire a diego di tornare a batford era tornato alla porta e la stava tirando disperatamente nel tentativo di aprirla ma la maniglia non girava più come se nel frattempo qualcuno l'avesse chiuso a chiave siamo in trappola non è che finiamo in trappola libro viola libro viola per favore possiamo chiudere questo gioco sì certo siamo fuori ok ragazzi questo libro quindi è infestato ragazzi allora questo libro è magico oddio no vabbè io sono ancora sconvolto anche io direi di sì ok ah vabbè dai allora cambiamo gioco ok possiamo andare un attimo fuori che ti devo parlare di una cosa a serio ma non hai paura forse è meglio un altro giorno no vabbè andiamo qua dietro sulla panchina ok andiamo allora cos'è che mi devi dire allora ti volevo dire che secondo me la devi smettere di giocare con me tommaso perché non siamo degli oggetti e quindi giocare con ti tommaso sì perché secondo te sto giocando da quello che si vede vai con lui poi torni da me poi che cosa stai dicendo dimmi che non è vero l'amicizia per te non esiste no ma che per te bisogna essere se dico ciao per te io sono fidanzata con quella persona non ha senso quello che stai dicendo leonardo mi dovevi dire qualcos'altro solamente giudicarmi no ti volevo chiedere un'altra cosa sì e ti volevo chiedere se ti potevo dare un bacio ora 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 ilaria torno subito devo andare a fare una cosa vado un attimo fuori ma non hai paura cioè se c'è ancora Diego speriamo di no no non ti preoccupare le vado e torno subito ok ecco lì 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 ecco io ecco lì ecco tirs ci world ecco il buon ecco lì ecco i c Τ 70 Dai, rientriamo subito Vieni dalla tenda Vieni Tommaso dov'è? Non lo so Non era qui con te? Hai detto che usciva un secondo Cosa è successo? A un certo punto è iniziato a venire il fumo Tutto di bruciato, non lo so È stato lui Credo proprio di sì Non lo so Ecco mi sono affernato Ciao Tommaso Dov'eri? Ero fuori a prendere una boccata d'aria Boccata d'aria è basta Certo Ok, allora che si fa? Non lo so, un altro gioco Un serpente, Charlotte Ragazzi, cambiamo ragazzi Ho paura Via, via, via Fuori, fuori Vai, vai Oh mio Dio, quel serpente era bruttissimo Andiamo dietro? Sì Ok No raga, fermi Come fermi? Cosa c'è? C'è tipo Leonardo? C'è tipo un'ombra, sembra una sagoma di un uomo Ma dove? Là dietro Ragazzi No, io non voglio dormire qua No, andiamo a prendere le scarpe Sì Al massimo venite a casa mia domani Perché non... No No, non restiamo a dormire qua Scusate Ragazzi, il serpente è ancora là Non è che è andato via Ci provo io Provo anch'io Provate da là sotto Esatto Attenzione Hai preso? Ok, io ho preso le tue Grazie Quindi Leonardo Piano Non mi voglio... Non ti sentire, ok, perfetto Grazie Tieni Quindi... Ci vediamo domani allora Sì Va bene? Domani allora Va bene Ciao, grazie Ciao Buonanotte Ciao, ciao Buonanotte Andiamo 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 Ciao